ok andiamo avanti ovviamente se avessimo diverse chiamate magari anche di get di post ogni chiamata a fare questo meccanismo diventerebbe un po non dico noioso ma mettetevi magari che a certo punto vogliono cambiare questo sistema di autenticazione e farlo diventare come un beer token dovrei andare a chiamare e a cambiare tutte quante le chiamate quindi per iniettare ad esempio un token all'interno di una chiamata autenticata a di vero noi lo metteremo quando l'utente è loggato in tutte le chiamate perché perché ad esempio su get articles non è questo il caso però può succedere se non sono loggato articles mi da alcuni articoli stesso c'è alcuni alcuni post se invece sono logati magari magari perché ho fatto una subscription magari perché sono abbonato vi dicendo artico potrebbe darmi altri post magari quelli proprio riservati agli abbonati ora non è questo il caso però diciamo che può succedere quindi commentiamo questo primo pezzo di codice che abbiamo capito che si può fare ma non è diciamo il metodo che io preferisco che andiamo fare andiamo creare quello che in angola si chiama interceptor quindi nei servizi qui andiamo creare un nuovo servizio che in realtà non è un servizio questo un interceptor e andiamo chiamarlo come out punto interseptor punto ps che cos'è auto interseptor è una function andiamo la faccio vedere out interseptor interseptor questo è ovviamente il nome che io io cosa accetta questa è una function in ingresso sarà la nostra request http request è un generico qui gli diamo anche no quindi il tipo di request è sconosciuto e un altro parametro che è il next adesso ve li faccio vedere bene bene qui metteremo http endfn cosa ci dà di ritorno questa function un observable si un observable di http adesso andremo ve la faccio capire cosa succede http event di angno e poi la graffa ora magari questa la spostiamo in giù che se no non ci sta e non la vedete ok e quindi dobbiamo andare a andare a crearla allora la prima cosa che facciamo vi faccio vedere che cos'è che ho sbagliato ok qui mi dice ok bisogna fare un retorno allora la request è la richiesta dovete immaginare che quando noi facciamo una chiamata la request è la richiesta sarebbe praticamente il nostro post quindi siamo qui è questa questa post è la nostra request ok che ancora non è stata processata arriverà qua questa request a questo punto se io faccio se io faccio return next di request questo interceptor intercetterà tutte le chiamate ma non farà nulla non vi fidate facciamo un console punto log e ci mettiamo la request quindi la request originale ovviamente in questo momento non fa niente ma per fare in modo che questo interceptor venga eseguito per ogni chiamata get post delete qualunque essa sia quando verrà fatta una chiamata al back end dobbiamo semplicemente dirglielo dove dobbiamo dirglielo dobbiamo andaglielo dire nell'app config qui abbiamo provider router provider http client che se vi ricordate serve per andare a fare le chiamate in questo in questo provider http client se vi notate ci sono anche dei parametri uno dei parametri che possiamo dirgli è width interceptor notate che è il plurale perché potrei averne più di uno qual è l'interceptor che voglio usare out interceptor andiamo a eseguirlo ovviamente out interceptor ho creato qualcosa di sbagliato vediamo un attimino che cosa ho sbagliato questo da un vediamo un attimo ah sì giusto andiamo a vedere se effettivamente nel console log eccolo vedete quindi la request se notate questa è la request anzi facciamola proprio request rec due punti e li andiamo a salvare eccolo qua rec due punti dove il corpo ovviamente la prima request che noi andiamo a fare è la get article perché siamo nella home page quindi cosa ci dice ci dice body null perché siamo in get questo è l'url abbiamo il parametro url vedete è article questo è quei parametri insomma ci sono diverse informazioni tipo ad esempio che il response type è di tipo json e che ci torna utile questo out interceptor allora ci serve per iniettare il token come facciamo intanto qui facciamo user service e andiamo a farci iniettare andiamo a farci iniettare lo user service perché nello user service abbiamo il token questo user service ha il token andiamo a clonare la request quindi faremo new request uguale a ric punto clone quindi abbiamo clonato la richiesta qui in questo momento ancora non è eseguita non abbiamo ancora fatto la post la get verso back end quindi abbiamo clonato la request a questo punto se user service punto token è definito lo andremo ad aggiungere altrimenti ripasseremo la new request senza modificarla quindi andremo a fare new request è uguale a rec punto clone quindi andremo a sovrascriverlo due volte potremo anche evitare di farlo insomma qui poi ci si gioca un po' cosa andiamo? andiamo a clonarla ma gli diciamo vedete che nel clone ha anche l'update cioè possiamo settare che cosa? headers che è quello che ci interessava quello che avevamo fatto prima quindi che facciamo? facciamo headers due punti qui andremo a riclonare ovviamente gli headers se vi ricordate io non ve l'ho detto prima perché bisognava fare il set con l'assegnazione perché? perché? eccolo qui perché se io adesso faccio set di ritorno avrà gli HTTP headers e li ripassiamo a questa property quindi qui facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto qua quindi esattamente la stessa identica cosa ovviamente magari con un punto headers ok quindi andremo a clonare questo ovviamente il vis non c'è perché è all'interno della function quindi questo vis bisogna toglierlo e ci mettiamo il token qui il punto di virgola non serve quindi il new REC abbiamo fatto il clone a questo punto qui qui non gli passeremo più la REC ma gli passeremo new REC qui magari ci mettiamo new REC tanto per vedere se adesso andiamo a vedere nella REC anzi qui scriviamo new REC eccolo qua tra i vari headers che passiamo c'è l'authorization eccolo con il token andiamo a vedere a questo punto se la POST rifunziona di nuovo quindi new REC new REC new REC andiamo a vedere la CREATE POST e vedete che funziona quindi per ogni request praticamente attacca il token se è presente se io faccio TINOUT in questo momento sono sloggato se andiamo a vedere nell'application non c'è più il token vedete è svuotato e provo a rifare la stessa POST guardate che succede CREATE POST gli da un authorized ma che cos'è che ritorna questa next ritorna un observable quindi che possiamo fare ad esempio in questo observable che possiamo fare ad esempio possiamo fare una pipe e in questa pipe ad esempio potrei fare un catch error il catch error mi serve per catturare un eventuale errore del back end e magari quando ci abbiamo l'errore ecco qui possiamo magari fare un vedere un messaggio all'utente oppure magari mandarlo che ne so a un nostro servizio che cattura gli errori sulle chiamate del back end oppure un sistema di log che magari se log gli errori di questo servizio qui potrei ad esempio fare if error instance of di che cosa di un http error response e error punto status uguale uguale 401 quindi non autorizzato e qui potremmo fare qualcosa ovviamente qui mi da un errore perché comunque sia in questo observable dobbiamo ritornare qualcosa magari ritorniamo lo stesso all'errore true error eccolo qui di che cosa di new error error quindi poi rilanciamo l'errore al servizio che mi invoca e qui però potremmo fare qualcosa ad esempio potremmo fare console.error accesso non consentito agli utenti non autorizzati andiamo a fare una prova ovviamente non c'abbiamo quindi dobbiamo intanto loggarci poi ci slogheremo ci logghiamo a new post qui adesso mi sloggo adesso io metto qualche cosa faccio il create mi va in errore mi dà la 401 e sulla console eccolo qui accesso non consentito agli utenti non autorizzati tutto in un unico punto ma ma qui potrei anche dire potrei anche dire potrei avere anche più di un interceptor potrei definirne più di uno infatti bit interceptor è un array quindi potrei fare più interceptor a noi interessa capire come possiamo ad esempio sviluppare come possiamo far vedere carino anche all'utente un messaggio di errore allora per l'occasione a me piace moltissimo c'è l'ngx toast per far vedere un messaggio eccolo qui per far vedere un messaggio di toast quando ad esempio l'operazione è stata completata quando l'operazione è andata male via dicendo se andiamo a vedere qui cosa ci dice che è compatibile con angular 17 questo qui current angular 17 e ci spiega come installarlo allora ci dicono prima installare questo quindi andiamo npm install ngx toast meno o meno save quindi lo andiamo installare poi ci dice guarda che animation è un pacchetto required come dipendenza per farlo vedere quindi andiamo installarci anche questo perfetto dopo di che ci dice aggiungi nel tuo css tutta questa cosa qui ora questo qui serve per bootstrap noi non andremo ad aggiungere tutte queste cose su bootstrap ma andremo aggiungere soltanto quello che ci interessa dove le andiamo ad inserire andiamo ad inserirle in styles quindi andiamo in testata del nostro styles e se vi ricordate lo styles è a livello globale quindi è per tutta la nostra applicazione e qui andiamo a importare non url ma ngx vabbè l'intellisense qui non funziona toaster toaster barra toaster andiamo a salvare andiamo a lanciarlo dopodiché vabbè qui ci dicono che possiamo o importarlo nel scss oppure potremo importarlo direttamente l'angular key dopodiché ci dicono di inizializzarlo nella nostra configurazione ovviamente noi siamo in stand alone quindi dobbiamo andare a configurarlo nel nostro provider nell'app config magari sistemiamolo un po' meglio eccolo qui qui ci mettiamo una virgola e vedete provide toaster provide toaster eccolo qua andiamo a salvare ovviamente bisogna far vedere il messaggio andiamo ad esempio nel nostro interceptor se andiamo a vedere come si utilizza eccolo qui dobbiamo iniettare il toaster service e poi fare ad esempio il success quindi è quello che andremo fare nel nostro nel nostro interceptor const toaster 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 uguale a inject toaster service e qui lasciamo lo stesso la console ma faremo vedere this punto toast service perché la mette maiuscola o una definita maiuscola la variabile no anzi facciamo così toast service is toast service punto error e qui ci mettiamo il nostro messaggio ah giusto non c'è il bis perché siamo dentro in una function toast service error accesso non consentito non autorizzati andiamo a riprovare rifacciamo lo stesso giro si emodemo1 ci loghiamo new post ci loghiamo proviamo a mettere qualche cosa andiamo a creare il post tenete d'occhio qui accesso non consentito gli utenti non autorizzati ovviamente possiamo mettere anche success ma per catturare gli errori questo è l'unico modo ovvio che no qui magari abbiamo fatto l'accesso non consentito ma posso ad esempio andare a fare il catch perché magari non dico che non c'è le autorizzazioni ma magari le api è giù qui posso fare la stessa identica cosa quindi fare catcherror r e qui magari magari qui rifacciamo return of undefined quindi non ritorniamo niente ovviamente qui mi da un errore perché article response diciamo che c'è sempre e qui magari possiamo mettere undefined e qui andiamo iniettare lo service e il service quindi private toaster service uguale a inject di toaster service ovviamente questo private user service non serve abbiamo il toaster service e qui possiamo fare this punto toaster service punto show anzi error eccolo qui qualcosa è andato qualcosa non ha funzionato ovviamente adesso non andrà in errore per mandarlo in errore magari qui ci mettiamo un 1 così non funziona andiamo a fare il sign in sempre la stessa procedura demo demo 1 new post create post è andato in errore e qui ci sono tutti quanti gli errori di post not found però non ha fatto vedere il post non ha fatto vedere l'error probabilmente perché viene catturato dall'interceptor prima però dovremmo ritornarlo dovrebbe darlo anche dall'altra parte vabbè ragazzi ci siete in chat andiamo a fare un ulteriore passaggio che sarebbe se andiamo a vedere la home qui peraltro ancora la home non l'ho agganciata quindi andiamo ad agganciarla quando clicchiamo conduit quindi questo vogliamo che ritorni clic navigationservice.pagedviewset dove ciao